ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale e come sempre sono pasquale questo risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro investitore della porta accanto oggi ritorniamo a parlare dei miei investimenti mi sono spaccato un braccio mentre parlavo intorniamo a parlare dei miei investimenti ritorniamo a parlare di quello che sono state le mie performance in questo ultimo periodo come ricordate ho deciso di non fare mai più un video di diciamo di aggiornamento sul portafoglio su base mensile ma bensì mi farlo su base trimestrale perché non mi interessa tanto quello che è appunto l'hype che creano questi video con nuovi iscritti e nuove visualizzazioni ma mi interessa appunto condividere la mia operatività nel contesto di quello che sono cioè un investitore a lungo termine per cui essendo un investito a lungo termine già fare un video ogni tre mesi che va a seguire il portafoglio e fin troppo bisognerebbe farlo ogni sei mesi ogni anno però ovviamente per onestà intellettuale credo che tre mesi sia un termine diciamo corretto e concreto per portare avanti tutto il discorso prima di iniziare ovviamente se questo contenuto è di tutto credimento lascia un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube che questo è un investimento ottimo per me anche per te perché vuol dire che mi supporti e se per caso questo video non ti è piaciuto lasciami un commento qui sotto e mi fai capire anche perché se sei nuovo sul canale e non dimenticarti di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo bene prima di cominciare con l'analisi di quello che è stato la performance di questo ultimo periodo ovviamente vanno fatte alcune precisazioni la prima va ricordato che io ho da quando sono arrivato in italia sono stato un mese fermo che il mese di aprile non ho fatto niente era stato tutto diciamo fermo non avevo fatto assolutamente nessuna operazione e poi maggio e giugno ho fatto le operazioni spostando alcuni asset da 3212 a uidiba che la banca che sto utilizzando adesso per gli investimenti riducendo il numero di investimenti perché quello che mi interessa appunto è fare investimenti più corposi con una frequenza minore per cui faccio un investimento al mese su un asset che mi piace e poi avanti diciamo un po alla volta vado a costruire il mio portafoglio su quelle aziende che mi interessano al momento non sono tutte quelle che voglio avere perché ovviamente quando liquidato le posizioni su 3212 avevo posizioni da 300 400 500 euro per cui qui almeno ogni ogni operazione di 1000 euro anzi una è da 2000 perché adesso lo vediamo perché per cui adesso non ho raggiunto tutte le aziende che volevo inserire in portafoglio e poi per chi mi segue sa che ho avuto la problematica con l'auto la multa tutto quello che ne è conseguito e per cui sono fermo sono stato anche fermo a giugno con le nuove operazioni e molto probabilmente sono fermo anche ad agosto e settembre però il mio portafoglio non sta fermo perché continua a muoversi prima di andare a vedere anche devo ricordare che il mio obiettivo non è battere il mercato ma è fare un profitto mensile medio che va dall 1.2 all 1.5 per cento il portafoglio è stato creato su 3212 e per cui la prosecuzione di questo a giugno del 2020 per cui questo a di giugno 2021 è un anno giusto da quando ho creato il portafoglio per cui andiamo a vedere anche quanto il mio portafoglio ha reso in un anno intero e se effettivamente quelli che sono stati i miei obiettivi sono stati rispettati 1.2 1.5 per cento mensile andiamo su excel andiamo subito a vedere quello che è successo allora come si può vedere da qui avevo chiuso diciamo il mese di il primo trimestre del di quest'anno a 4.65 per cento avevo fatto il video appunto a marzo e avevo chiuso il portafoglio di 3212 con un profitto del 9.2 per cento questo secondo trimestre è in linea col mese precedente un qualche puntino percentuale in meno ma un 4.57 per cento di rendimento che fa appunto poco più dell'1.5 per cento mensile per cui nell'anno il portafoglio mi ha reso con molta soddisfazione un 18.42 per cento qui il 9.2 per cento è stato realizzato appunto da giugno 2020 a dicembre 2020 per chi non solo ricordasse comunque può andare a vedere il video presente magari lo lascio qui da qualche parte quindi sono ampiamente nelle mie performance perché ho fatto un 18.42 per cento in un anno e diciamo facendo un 18.42 diviso i 12 mesi abbiamo un 1.54 per cento mensile medio che è assolutamente in linea con quello che mi sono prefissato per cui un bel pollice in su a me che ho rispettato quelli che sono stati i miei obiettivi come ho detto prima non è il mio obiettivo battere il mercato il mio obiettivo è semplicemente fare quello che mi va cioè fare tra l'1.2 e l'1.5 per cento qui adesso allargato la finestra così si vede un po meglio come si può vedere è andato più che bene 9.2 per cento chiuso a dicembre 2020 dopo sei mesi 4.65 per cento nel primo trimestre 4.57 per cento nel secondo trimestre come sono andate le variazioni allora il portafoglio prima di tutto è cambiato per cui rispetto a quello che avevo sostenuto 112 alcune aziende non ci sono però abbiamo gladstone land che è un ritt su appunto i campi coltivati che mi ha dato quasi un 20 per cento da quando ho messo tutto su guidiba psec prospect capital 10.88 per cento alliance bernstein un 8.05 per cento e google è questa l'azienda di cui parlavo prima in cui ho comprato un'azienda intera perché appunto in banca sui broker bancari non ci sono le azioni frazionati un 6.78 per cento per cui soddisfattissimo dei delle mie performance in questo trimestre che è andato alla grande però ci sono anche delle aziende che sono andate un pochettino male e un pochettino male vuol dire che diciamo che non è andata malissimo perché la peggiore appunto mi ha dato un meno 3.23 per cento e poi abbiamo real team cam 2 meno 2.28 main street capital 2.04 e ares capital 0 meno 0.53 per cento in ogni caso sono delle delle performance che seppur negative posso accettare ampiamente anche perché come ripeto queste posizioni sono state aperte fine aprile per cui inizio maggio e non mi aspettavo sicuramente di fare tutte tutte le performance positive tra l'altro alcune di queste reality income e main street capital erano già nel portafoglio di trend 212 le altre due non c'erano così come non c'erano prospect capital and alliance bernstein e ma stanno andando più che bene secondo me perché comunque questi due erano in buon profitto per cui rispetto a quello che avevo prima la posizione totale sarebbe comunque in profitto adesso non ricordo sinceramente quanto era il profitto originario si può andare a vedere video precedenti ma poco mi interessa perché appunto adesso ho creato il portafoglio qui e non guardo al passato allora andiamo a vedere quelli che sono stati i dividendi qui sono alle aziende sono divise per posizioni e possiamo andare a vedere che nel mese di maggio ho fatto 13.51 euro di dividendi nel mese di giugno 14.72 ovviamente quelle che hanno i dividendi mensili sono qui realt income stag industrial e anche le altre diciamo sono dividendi mensili solo che le ho comprate dopo per cui in questo momento non le ho ricevute allen's bernstein è quella che mi sta dando il dividendo maggiore perché ha un dividendo piuttosto ampio e ci ho fatto un video a proposito magari ve lo lascio qui da qualche parte nel video e per cui da quando ho aperto questo portafoglio in questi due mesi ho guadagnato 28 euro e 23 di dividendi che per essere appunto solo due mesi il male non è 9 euro e 25 fino adesso le ho guadagnate da alliance bernstein 1 euro e 31 da glass on land 2 euro e 98 si 2 dollari 98 non sono euro main state capital 1 e 44 microsoft 4.73 da prospect capital 4.38 da real team cam e 4.14 da stag industrial andiamo a vedere invece quali sono le aziende appunto che sono presenti nel portafoglio di pasquale riganello allora in questo momento e allarghiamo abbiamo queste aziende sono in realtà a 13 il mio obiettivo è portarle a 20 per cui a 20 aziende poi mi andò a fermare e come si può vedere il numero delle azioni la maggiore esposizione al momento del prospect capital con 153 azioni poi abbiamo stellus investment capital che 93 azioni e poi abbiamo appolo stati diritto 80 e allen's bernstein con 30 diciamo che in linea di massima come si può vedere poi più cresce il prezzo almeno sono il numero di azioni come ho detto quando ho aperto il conto l'investimento minimo è di 1000 euro proprio perché così mi va a impattare pochissimo sul rendimento dell'azienda dell'azienda per quelle americane cercherò di fare se possibile investimenti almeno 2000 euro appunto per andare a mitigare un po i costi perché ovviamente i costi bancari hanno un minimale e poi mi piacerebbe ridurre questo minimale il più possibile appunto per evitare di andare a perdere quel possibile interesse composto sperperando tutto in operazioni e per cui in costi di compravendita degli asset che vado ad acquistare abbiamo differenziazioni in reed collective investment software nt appunto microsoft banking services e che sarebbero i cosiddetti poi bdc in questo caso come main street capital ovviamente mancano ancora alcune aziende che sono qui ve le faccio vedere veloci veloci così non dovete fare la pausa e andare a vedere non tutte andando nel portafoglio perché come appunto dicevo prima saranno al massimo 20 le aziende che andrò ad inserire non saranno tutte quelle che sono nella mia watch list alcune poi magari potrebbero essere aggiunte in watch list e potrebbero rimuovere altre da quelle che sono diciamo i miei obiettivi proprio perché mi vado un po a concentrare di più su quello che è il mio obiettivo di vita che appunto crea un flusso di casse di dividendi ma dalle aziende che mancano comunque mancano anche alcune aziende diciamo growth che sono piccole e alcune che sono mega cap perché voglio creare come ho detto nel video precedente anche una certa tipologia di diversificazione perché l'investitore consapevole va a investire non solo in una tipologia di aziende o in un'altra ma cerca di prendere parte e possesso appunto perché diventa proprietario di alcune aziende condividendone il progetto imprenditoriale condividendo il management e i prodotti che va a creare siano questi servizi o prodotti fisici bene spero che questo aggiornamento sia stato di tuo gradimento io sono molto contento perché sto portando avanti il mio progetto e i miei obiettivi sono rispettati tutti i mesi con 1.2 1.5 per cento mensile sono felicissimo per cui la mia curva di guadagno aumenta sempre di più e sono molto contento diciamo che so che molte persone non potrebbero essere contenti magari non saranno contenti di questo portafoglio perché cercano rendimenti dal 30 40 per cento anno però ognuno ha i propri obiettivi di vita e il mio obiettivo è questo fare un 18 per cento anno 20 per cento anno è più che soddisfacente per me questi capital gain poi non sono inclusi dividendi che in questo momento comunque sono pochi ma nel tempo cresceranno e andando a contribuire ancora di più a quello che il cagre annuale bene se il video è stato il tuo gradimento un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube iscriviti al canale clicca la campanella se sei nuovo ovviamente è e lascia un commento qui sotto per aprire una discussione in merito su quello che sono i miei investimenti la mia operatività e quello che il mio portafoglio in generale bene anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video ciao